Ciao amici di Tariatro Games, buongiorno, venerdì 26 maggio e se ieri mattina vi ho tenuto compagnia per una ventina di minuti buoni, oggi sarò molto più rapido perché c'è molto meno da dire. Solo due indicazioni prima di entrare nel merito dei contenuti di oggi. Il primo, vi ricordo, loggatevi almeno 5 giorni tra ieri e mercoledì perché se volete le 100 monete d'oro dello special login vi dovete loggare almeno 5 volte nel corso della settimana, nella precedente, in questa e nella prossima. Così sono 300 monete. Il Gold Rush è differente, il Gold Rush ci darà, se tutto va bene, altre 180 monete d'oro in regalo l'8 giugno se saranno superati tutti i livelli. Il login, queste 300 monete d'oro sono date in questi giorni, in queste settimane facendo ognuno il login. I Gold sono collettivi, il login è individuale, quindi in totale diciamo in queste tre settimane, fra tutto ci sono 480 monete d'oro in regalo, più quelle anche da sbloccare con gli obiettivi che adesso mi ricordo mi sembrano 120, 600 monete d'oro in regalo mica sono malaccio, non mi sembra affatto. Quindi mi raccomando, loggatevi. Poi vi do appuntamento questa sera alle 20 per l'inizio di una nuova run in divisione 3 e vi assicuro, tra oggi, sabato e domenica, è la run che a me ha emozionato di più. Vittorie all'ultimo, sconfitte pesanti, promozione in bilico fino all'ultimo, come è successo anche ieri, l'ho persa all'ultima la promozione, ma la run più emozionante di sempre. Io ve la consiglio, venerdì alle 20, sabato alle 20, domenica alle 20, questi sono gli orari in cui va su, poi la potete vedere quando volete, rimane sul canale per sempre nella playlist del campionato, quindi potete vederla sempre, però se volete vederla come va online, venerdì alle 20, sabato alle 20, domenica alle 20 e poi lunedì comincia un'altra run. Io vi garantisco che le emozioni non mancheranno, questo è poco ma sicuro, sin dalla prima partita, sin dall'incredibile prima partita, succederà davvero di tutto, sconfitte inaspettate con giocatori sulla carta di divisione più basse, vittorie inaspettate con giocatori di divisione più alta, insomma di tutto di più. Va bene, detto tutto questo, un piccolo richiamo all'evento di ieri, Yei Light Barcellona, dopo il Napoli il Konami celebra anche il Barcellona, non credo che celebrerà il City perché non è squadra partner, un giocatore in regalo ieri, l'ho girato, e poi due giocatori da prendere con un evento, con squadre autentiche reali, con il Barcellona, è sempre un evento facilissimo sostanzialmente, quindi domenica io girerò per voi sia i due giocatori del Barcellona e sia quelli dei giocatori della settimana con l'evento offline del Premier League inglese. Ecco, ieri io, come mia solita fortuna negli ultimi tempi, ho pescato Sergi Roberto, ovviamente il più scarso dei cinque. Vediamo di pescare altri due giocatori più interessanti e vedremo. Mi raccomando, anche qui avete tempo fino al primo giugno per girare il giro gratis che vi ha dato ieri, o anche se vi loggate già oggi, e poi altri due giocatori da prendere con l'evento, squadre autentiche, non del Dream Team, squadre autentiche, a sinistra, l'opzione a sinistra, due giri, davvero l'evento è semplicissimo, vedrete. Poi ieri ragazzi mi dovete scusare, mi sono dimenticato di farvi vedere un altro pool importantissimo, tra virgolette e ironicamente, è quello degli MVP giapponesi. Io sarei davvero curioso di vedere le statistiche di quanti girano questo pool al di fuori del Giappone, ma anche in Giappone, perché, diciamolo, un giocatore che arriva al massimo a 92, oggi come oggi, la vedo dura. Poi, per carità, ci sono gli eventomani per gli eventi giapponesi, i collezionisti, eccetera, ma secondo me i numeri non sono altissimi. Ah, a proposito, fatemi ringraziare Alessandro M., il segnalatore più veloce del West per quanto riguarda i server aperti, che mi segnala anche spesso i Football Lab, e anche Matteo che mi ha segnalato stamattina del pool che vedremo fra un attimo. Grazie sia Alessandro e grazie a Matteo. Questo quindi, ieri è arrivato questo pool MWP aprile, campionato giapponese, da Grasviera, Wataname, Kida, Nagai, Jamma, Delgado, Deng, Mita, Ishiara, Mazzuda e Araki. No commento, perché è meglio. Più interessante è sicuramente lunedì, lunedì arriverà il pool Arsenal. Non vi faccio vedere i parametri, perché tanto possono cambiare, i Football Lab sa i giocatori, ma le valutazioni potrebbero cambiare. Comunque, qui abbiamo Holding, Tomiasu, Zinchenko, Ugi Orginio, Martinelli, Ramsdale, Party e Jesus. Pool squadra di lunedì, l'Arsenal che si è fatto soffiare lo scudetto davvero all'ultimo dal Manchester City, però sicuramente sono giocatori decisamente più interessanti dell'MWP di aprile. Cavolo e Jesus è molto usato, anche Party, meno gli altri, molto meno gli altri, però questo è il pool. E poi, insieme al pool dell'Arsenal, arriva anche quello della Premier League, sostanzialmente. Ma questi pool, ditemi voi l'opinione, se voi li girate o meno, non riescono a convincere, perché non vedo parametri molto simili a quelli dei giocatori base. Così, non è che sono stato lì a vedere tutto, ma l'idea è quella, poco di più. Poi, i giocatori non sono pochi, non lo so, forse per chi inizia da poco a giocare hanno un senso. Comunque ci sono Gnomto, Gibbs-White, Mitchell, Maguire, Mitrovic, Camara, Daniel Podence, Robert Sanchez, Walker, Bruno Guimaraes e Romero del Tottenham. Anche la scelta dei giocatori, sia in quello inglese, sia in quello italiano, sia in quello spagnolo, lascia un po' perplessi, perché sicuramente non sono gli MVP delle squadre. Vabbè, quelli arriveranno a campionati finiti, già ci sta facendo fare i sondaggi, quindi quello lo capisco. Però, qualche cosa di più interessante, secondo me, si poteva fare per questi pool campionati. Però, come dire, io ve li propongo e poi dopo ovviamente siete voi a decidere se girare o meno. Però ecco, sarei curioso di sapere i vostri commenti, magari c'è anche qualche, non ci sono solo detrattori ai pool campionati, c'è qualcuno che avrà un'opinione differente e che magari li apprezza. Sono curioso di sentire ogni opinione, ogni commento sul tema. Va bene ragazzi, come vi dicevo oggi è stato rapido rapido il video. Vi do appuntamento questa sera alle 20, mi raccomando, c'è questa run di questo fine settimana che davvero è sorprendente. Io vi do appuntamento quindi alle 20, oggi pomeriggio vi svelo anche il prossimo regalo del TG Tech per giovedì prossimo. Siamo alla penultima puntata, quindi se volete qualche regalo tramite la trasmissione che realizziamo su Simpli Radio, la radio di Roma che si sente in FM in tutto il centro Italia, ma tramite app o tramite web si può sentire in tutta Italia. Quindi non mancate l'occasione, c'è un bel gioco di calcio per PC però, vi siete fatti un'idea di quale potrebbe essere. E poi l'ultima puntata un super regalone da non perdere l'8 giugno e poi dopo ce ne andiamo in vacanza con il TG Tech, con tutto il resto si continua come sempre. Ragazzi buona giornata e ci aggiorniamo questa sera, salvo breaking news, che lo sapete se ci sono breaking news su UFL, sui football, su FIFA, sui esport FC, su tutto, non mancheremo di fare il video all'istante. Ciao!